Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti per Standonato, sono il capogruppo di questa lista civica e lo scorso anno ero uno dei candidati sindaci per le elezioni amministrative di Standonato milanese. Accanto a me c'è l'avvocato Fabio Fazzo che è un componente della lista civica insieme per Standonato, anzi direi è il presidente della lista civica insieme per Standonato di cui mi onoro di essere il segretario politico. Oggi abbiamo organizzato questa conferenza stampa per parlare delle ultime, direi recentissime, la questione del Parco Mattei nasce da moltissimi, nasce, io riesco forse a parlare anche più ad alta voce senza microfono, comunque ci proviamo. Allora nasce in tempi molto lontani, Parco Mattei che per moltissimi sono negli anni 50. Apparteneva ad Elia, appunto era il Parco Snam, un centro di eccellenza a livello sportivo tra i più belli d'Italia e d'Europa. Per chi ha avuto la fortuna di crescere e di vivere appunto già da bambino a Standonato penso sia uno dei luoghi del cuore, se non il luogo del cuore. Quindi parliamo di un bene che non solo è caro ai Sandonatesi ma di cui Sandonato era, direi purtroppo utilizzerei il verbo all'imperfetto, quindi era orgogliosa proprio perché rappresentava veramente il fiore al cucchiello dell'amministrazione. dell'amministrazione, direi del comune più che dell'amministrazione perché fino agli anni 2000 appunto come dicevo prima il Parco Mattei apparteneva ad Elia che poi l'ha donata al comune di Sandonato e da lì purtroppo come molte volte è stato detto e ripetuto sono iniziati i guai per questo centro di eccellenza. Torniamo agli anni dell'amministrazione checchi e ai bandi che dal 2013 si sono succeduti fino ad oggi e che purtroppo non hanno portato ad alcuna conclusione. Nel 2013 si fa un primo bando di gara per la riqualificazione e la gestione del Parco Mattei. Partecipano vari operatori, 5 manifestano l'interesse per una cifra molto ragguaglievole, molto ragguaglievole. Una cifra di circa 20 milioni di euro veniva manifestata come interesse tra vari operatori. Quel bando a causa dei ritardi ancora una volta nell'espletamento della gara stessa. Effettivo, assolutamente. Non solo ma fin dalla procedura di valorizzazione mancavano elementi tassativamente richiesti per poterla fare. È possibile che non se ne sia accorto nessuno. Fin dal primo momento, dal primo istante in cui è stata decisa questa procedura, che ripeto è stata una decisione della Giunta, qua poi daranno la colpa ai tecnici, io lo so, è stata una decisione della Giunta che aveva provato in ogni modo, anche prima, a cedere a qualcuno la gestione del Parco Mattei. Permettetemi di ricordare, perché io sono entrato, ho cominciato ad occuparmi di politica, perché occupandomi di sport mi chiedevo che cosa stesse succedendo al Parco Mattei e scoprì che c'era in corso una gara che prevedeva che la piscina interna venisse chiusa e che la piscina esterna olimpica da 50 metri venisse coperta con un sistema copri-scopri. Siccome per mestiere mi occupo di impiantistica sportiva dal punto di vista legale, io so benissimo che al giorno d'oggi mettere una piscina da 50 metri profonda, copri-scopri, è impensabile perché ha dei costi di gestione, di riscaldamento che nessuno oggi più potrebbe sostenere, roba d'anni 50. Invece avevano fatto quel progetto così e infatti andò deserto perché nessuno gli propose la piscina copri-scopri. L'Eni aveva fatto un'offerta che però era diversa da questo proprio perché era antieconomica e quindi esclusero l'unica offerta dell'Eni perché non era contra, ma perché l'Eni aveva fatto un'offerta che era economicamente sostenibile. Cioè hanno fatto delle gare che non potevano attrarre nessuno perché erano non sostenibili con la non aggiudicazione di quella gara all'unica offerente EDI perché l'offerta veniva ritenuta non contra. Dopodiché è iniziato un nuovo iter di gara, questo parliamo tra il 2015 e il 2016. Oggi siamo nel 2018, direi siamo alla fine del 2018 e la situazione è che dopo due anni dall'inizio della gara, dopo un anno e mezzo dall'aggiudicazione di questa gara ad un operatore privato, purtroppo fatta in ottemperanza, direi praticamente in concomitanza con le elezioni comunali dello scorso anno, siamo arrivati alla conclusione che c'è iniziato un procedimento di revoca, quindi l'avvio della revoca della gara aggiudicata nel maggio del 2017 e siamo arrivati a quello che oggi è l'argomento per cui abbiamo reputato importante fare una conferenza stampa, ossia quello che ha deciso l'autorità nazionale anticorruzione alla quale la sottoscritta Fabio Fazzo e altri tre componenti della lista civica che con me hanno firmato un esposto, alcuni ai quali noi ci siamo rivolti per dirimere quello che era il nostro dubbio fortissimo che abbiamo manifestato fin dall'inizio all'amministrazione comunale, ossia che quella gara fosse viziata. Cos'è successo nella campagna elettorale dello scorso anno? È una campagna che è stata dal sindaco Sciente Checchi poi riconfermato basata su due grandi progetti, il Pratone e il Parco Mattei, quest'ultimo in particolare è stato proprio il fiore all'occhiello non dell'amministrazione purtroppo ma della sua campagna elettorale. Per quanto concerne il Pratone sappiamo, per chi non lo sapesse lo ricordo, è stato revocato il permesso a costruire, già dato l'anno scorso anche quello in concomitanza delle elezioni amministrative, anche lì si sono aperti dei contenziosi e a quanto pare è iniziata un'indagine da parte della Procura della Repubblica. Per quanto riguarda il Parco Mattei fu aggiudicato nel maggio del 2017 e dal maggio del 2017 con l'aggiudicazione provvisoria poi confermata con quella definitiva in dicembre del 2017 siamo arrivati al novembre del 2018 senza che mai nessun contratto sia stato stipulato. Eppure puntini puntini governano loro ancora. Quindi qual è il motivo per cui non è stato stipulato un contratto dal maggio del 2017 ad oggi? Nessuno poteva ostacolarli, né certo la sottoscritta poteva ostacolarli visto che la città ha rieletto, nonostante diciamo il vero vincitore sia stato l'astensionismo, ha rieletto comunque l'aggiunta Checchi. L'aggiunta Checchi di cui è Presidente del Consiglio Matteo Sargenti a cui unicamente al sindaco Checchi imputo le grandissime responsabilità relative a questa gara. Perché l'oggi Presidente del Consiglio Matteo Sargenti era l'assessore allo sport fino al maggio del 2017. Cosa è successo? Cosa dicevamo noi in campagna elettorale? Cosa dicevamo? Perché siamo stati tacciati di essere incapaci nella lettura della documentazione, la sottoscritta è stata tacciata dal sindaco di mentire sapendo di mentire, sono stata tacciata di essere diciamo contraria addirittura alla riqualificazione del parco Mattei e addirittura per interessi personali, cosa assolutamente falsa e addirittura di essere contro all'operatore privato. Come se praticamente per questi interessi personali io fossi per questo motivo soltanto contraria all'operatore privato. Niente di più falso, chi ha a cuore, io ho fatto il mio dovere, lo rivendico fortemente oggi, lo rivendico fortemente oggi. Ero un consigliere comunale uscente nelle mie prerogative, cioè quello di vigilare affinché tutti gli atti amministrativi vengano compiuti nel modo corretto e in linea con le regole di legge, in linea con le regole della pubblica amministrazione che conosco e che laddove non dovessi conoscere umilmente cercherei di conoscere con chi è più esperto di me. Ho detto durante la campagna elettorale che la procedura di gara era viziata perché era stata utilizzata la concessione di valorizzazione che non si può utilizzare quando l'oggetto della gara è la riqualificazione di impianti sportivi perché in questo caso si deve fare un contratto di costruzione e gestione seguendo le norme del codice degli appalti. Questo prevede non Ginafalgo ma il codice dei contratti. Questo cosa significa? Non è un formalismo, vi assicuro non è assolutamente un formalismo perché in quel caso si è avuto un appalto travestito da concessione che è vietato dalla legge. Seguire il codice degli appalti è qualificare una gara per quello che è e cioè per un appalto o una concessione di costruzione e gestione invece di una concessione di valorizzazione significa seguire delle regole di trasparenza e di correttezza nell'espletamento della procedura che diversamente non puoi fare se segui una procedura diversa e tutto quello che ne viene dopo è conseguentemente sbagliato così che anche chi partecipa ad una gara viziata sta inutilmente partecipando ad una gara che non potrà svolgersi, non potrà avere la sua normale e naturale evoluzione che è la conclusione di un contratto. Sono stata, ripeto, tacciata di tutto, insultata, querelata e anche personalmente colpita nei miei affetti familiari. Oggi che cosa è successo? È successo che a seguito del nostro esposto dell'11 di agosto del 2017 alla quale, alla quale esposizione dei fatti, venivo peraltro invitata dallo stesso sindaco Cucchetti, che difendendo fortemente quella procedura di gara e difendendo fortemente le sue scelte politiche perché la parte amministrativa alla quale il sindaco Cucchetti cercherà di scaricare la responsabilità, ricordati che è soltanto la parte esecutrice di scelte politiche e di indirizzo che sono esclusivamente del sindaco e della sua giunta, nel caso di specie esclusivamente del sindaco Cucchetti e dell'allora assessore allo sport Matteo Sargenti. In questo caso il sindaco mi invitava se avesse avuto questi inutili nei quali lui assolutamente non credeva di procedere a informarne le autorità competenti. Questo fatto mi sono rivolta all'autorità nazionale anticorruzione esponendo i fatti e dicendo esattamente questo, e cioè che quella procedura di gara era iniziata e quindi di conseguenza tutto quello che ne derivava lo era di conseguenza. Tra l'altro, tra queste cose, la più importante è l'aggiudicazione proprio perché l'aggiudicazione veniva fatta appunto sulla base di un castello che era completamente iniziato. L'ANAC ha aperto il 24 di luglio del 2018, quindi che non inputi il sindaco Cucchetti hanno esposto il suo esclusivo ritardo perché fino al 24 di luglio del 2018 il sindaco Cucchetti, come la sottoscritta, non sapeva che l'ANAC avesse preso in mano cosa che fa rarissimamente, peraltro, un esposto di un consigliere comunale di minoranza, cioè nessuno praticamente, e non solo lo ha reputato benitevoli di attenzione ma abbia aperto un'istruttoria. Alla fine di ottobre l'ANAC quindi si è pronunciato su questo, il 14 di novembre, il consiglio dell'ANAC presieduto da Raffaele Cantone ha deciso sulla nota che è stata presentata dall'ufficio di vigilanza e quindi ha confermato la proposta dell'ufficio di vigilanza e ha rimesso gli atti alla procura della Repubblica e alla procura regionale presso la Corte dei Conti competenti. Adesso, dopo questa purtroppo non brevissima, che ne scuso, presentazione, darei la parola all'Avvocato Fazio che vi dice esattamente che cosa ha detto l'autorità nazionale anticorruzione che ci ha mandato la loro risposta, una propria risposta ufficiale che ha chiuso definitivamente l'istruttoria, questo lunedì, il 19 di novembre. Prego Fabio. Buongiorno, sono già stato presentato quindi è inutile che dica chi sono, sono Fabio Fazio molti di voi mi conoscono. Io adesso cercherò di illustrarvi in modo possibilmente non troppo tecnico quello che ha detto l'Ana, perché qua ovviamente è sostanzialmente un provvedimento di tipo amministrativo, è sostanzialmente un provvedimento di tipo amministrativo e quindi è molto tecnico, ci sono molti riferimenti a norme e leggi e quindi non è facile tradurlo in modo semplice ed immediato. Ma per questo io parto dalla fine e nella fine delle conclusioni si dice in estrema sintesi dalle valutazioni svolte e qui si intendono tutte riportate, si può concludere che la procedura seguita dalla riqualificazione del pacco Mattei è carente dei presupporti di applicazione dell'articolo 3b, cioè non si poteva fare la concessione di valorizzazione, al contempo la procedura è carente anche qualora si riguardasse l'intervento di riqualificazione come sarebbe corretto come una concessione di costruzione e gestione. Inoltre il ricorso al dialogo competitivo non ne sussistevano i presupposti, inoltre gravi disfunzioni nella gestione amministrativa della gara e del procedimento per i tempi eccessivamente dilatati, inoltre il fatto che a gara in corso siano state modificate, sia stato chiesto all'offerente di modificare l'offerta, si sia andata avanti a discutere su questo e conclude alla fine questo procedimento definito essenzio dell'articolo 21,1 del regolamento ANAC. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è talmente evidente che era tutto sbagliato che è stato potuto seguire il procedimento semplificato perché era evidentissimo. Inoltre siccome si riferisce poi anche al comma 3 vuol dire che è una cosa grave e per cui questo provvedimento che io dirigente dell'ANAC assumo lo faccio approvare dal consiglio dell'ANAC perché altrimenti non occorreva l'approvazione del consiglio dell'ANAC e presieduto dal noto cantone. Infine conclude con le disfunzioni accertate e le dimensioni economiche dell'operazione hanno reso comunque opportuno l'invio degli atti e dei procedimenti del procedimento di vigilanza alla procura della Repubblica competente. Quindi sostanzialmente l'ANAC dice avete sbagliato letteralmente tutto ed è incredibile. Cioè qua noi non siamo in un piccolo comune montano dove non ci sono professionalità. Qua è stato sbagliato tutto fin dal momento in cui si è deciso che tipo di procedura fare. Cioè la procedura di valorizzazione invece di una normale concessione. Dopodiché è stato sbagliato il metodo della gara perché non è un errorino perché nel momento in cui tu invece di fare una gara normale per una concessione con l'indicazione dei prezzi eccetera eccetera tu fai invece il procedimento di dialogo competitivo che cosa succede? Che invece di ricevere offerte in buste chiuse e anonime tu sai perfettamente chi ti fa l'offerta. Tra l'altro aggiungo soltanto questo che il dialogo competitivo può mettere la modalità. Inoltre il dialogo competitivo non si poteva usare perché il dialogo competitivo si deve usare quando si devono fare delle cose complicatissime e allora l'amministrazione non sa bene che cosa chiedere al privato e allora a quel punto ricorre al dialogo competitivo. L'ANAC convoca l'amministrazione per avere chiarimenti nell'audizione del 16 ottobre alla quale sono stata appunto anch'io audita in audizione e letteralmente il responsabile del procedimento dice l'ANAC letteralmente non sa che dire non è in grado di rispondere ai quesiti che l'ANAC gli aveva posto e si limita a raccontare la storia delle gare ma è possibile che non sai perché hai fatto queste cose. Poi c'è infine viene contestato l'abnorme lasso temporale intercorso tra i verbali di aggiudicazione e poi oggi l'ANAC quando scriveva non sapeva che era partita finalmente perché non c'era altro da fare probabilmente la revoca insomma è qualcosa che è fuori dal mondo cioè una volta che avviene fatta la giudicazione nel giro di pochi giorni si stipula il contratto e non è stato fatto. Altra cosa che è stata che avevamo segnalato noi e che l'ANAC ha accertato è il fatto che nell'offerta c'era che era stata presentata c'era la richiesta di una fideiussione da parte del comune l'operatore privato chiedeva una fideiussione da parte del comune cosa che l'operatore privato poteva benissimo chiedere il problema che nel bando non c'era per cui quell'offerta uno doveva dire caro operatore privato non la posso accettare perché nel bando non c'era la fideiussione invece loro l'hanno accettata e ci siamo bloccati così per un anno e mezzo con un procedimento che non poteva andare avanti addirittura poi c'è stato e viene stigmatizzato dall'ANAC c'è la richiesta il tentativo di avere una copertura politica per questa operazione con un passaggio in consiglio comunale e l'ANAC dice ma questo è un atto amministrativo cosa vuoi cercare coperture politiche il risultato finale è che l'operatore a torto o a ragione non è non è mio compito dirlo ha iniziato una causa nei confronti dell'amministrazione per 9 milioni e mezzo di euro questo che cosa vuol dire vuol dire che la nostra amministrazione deve accantonare nel suo bilancio 9 milioni e mezzo di euro no ma deve fare un accantonamento e per quanto ne so io dalla giuricrudenza che conosco in questa fase cioè di causa appena iniziata è ritenuto prudenziale fare un accantonamento pari a circa la metà dell'importo richiesto quindi dobbiamo accantonare 4 milioni e 700 mila euro sono 4 milioni e 700 mila euro che togliamo al bilancio di noi tutti li togliamo i servizi sociali li togliamo al alla riqualificazione del mattei alla riqualificazione delle scuole questo è il risultato di questa procedura che noi avevamo detto che era sbagliata fin dall'inizio e loro sono andati avanti hanno detto che raccontavamo balle hanno detto che mentivamo sapendo di mentire e sono andati avanti questa è una responsabilità politica colossale e io spero che qualcuno a questo punto ne tragga le dovute conseguenze perché non è possibile che la città continui a essere amministrata in questo modo perché poi c'è anche la vicenda del pratone che accennava prima Gina Palvo ci sono le fideiussioni bulgare prese sul pratone che non sono state ancora discosse e non si capisce perché io un'idea ce l'avrei forse perché la società è finita in amministrazione controllata e già era stata segnalata come a rischio prima di prendere le fideiussioni queste sono le verità quando controllo che noi diciamo balle noi diciamo la verità io vi ringrazio grazie Fabio quali sono le conclusioni di questo perché alla fine la domanda che tutti quanti ci poniamo è e quindi adesso che cosa succede cosa succede nel pacco Martei che succederà al comune quali sono diciamo gli interventi che potrà fare il comune e che cosa succede dopo dopo che l'ANAC quindi che l'anticorruzione ha bocciato il comune perché ha bocciato un sistema allora è difficile dirlo perché adesso dovrebbero aprirsi dovrebbero perché Cantone a sua firma ha mandato questa nota alla Procura della Repubblica di Milano e alla Procura regionale anche presso la Corte dei Porti che ovviamente hanno diciamo la prerogativa di decidere se aprire o no un'indagine ma è chiaro che insomma ci va la firma del presidente dell'anticorruzione quindi immagino che lo faranno quindi il comune si dovrà preparare per rispondere a due indagini quello che oggi è uscito sul cittadino e vi invito a leggerlo è una intervista, una nota del sindaco Chetti che a proposito di quello che ha detto l'ANAC l'ANAC dice sostanzialmente che l'ANAC dà torto al comune perché il comune, dice lui, non ha seguito altre regole ma ha seguito le regole degli appalti quindi secondo il sindaco l'ANAC gli contesta tra le altre cose di aver seguito il codice degli appalti e non altre regole. Ora, riderei per non piangere perché mi chiedo come sia possibile lasciare in mano la soluzione di un caso così grave a uno che non ha assolutamente capito nulla della nota dell'ANAC perché l'ANAC gli ha detto esattamente il contrario e cioè gli ha detto che doveva seguire l'appalto, doveva seguire il codice degli appalti e non questo ripeto, non è un formalismo, ripeto, non è un formalismo leguleio io e Fabio ci hanno dovuto fare, ma vi assicuro, le conseguenze non sono soltanto, diciamo, come dire al posto di Pippo lo chiamavo Pluto e era a posto, no, sono le conseguenze relative al sistema gara che hai adoperato e al fatto che in questa gara avevi fatto anche lo spezzatino del parco facendo l'8-1 e l'8-2 per dire adesso questo lo do a questo, adesso quest'altro vediamo un attimo con la pista con la gara della pista come dobbiamo fare, facciamo il bando di agosto e tutto quanto benissimo, il bando di agosto sulla pista che io ho integrato nell'esposto il bando di agosto, la procura indagherà anche su questo, il bando di agosto è finito che la giudicatario unico concorrente, unico offerente e unico possibile anche offerente perché era l'unico che aveva i requisiti perché il bando era un bando, a mio giudizio l'ho scritto nella fotografia, cioè era scritto devi avere i capelli biondi, gli occhi azzurri e devi chiamarti così, xy non ti devi chiamare non si fanno i bando in questo modo, i bando si fanno, allora non fai un bando se vuoi darlo alla persona giustifichi un affidamento diretto, le regole le devi seguire, mi è stato detto lo scorso anno che un candidato sindaco, quale ero io, doveva sconoscere le regole dell'amministrazione mi dispiace, chi si candida a governare, chi governa dovrebbe conoscere, a me l'ha detto le regole dell'amministrazione io da cittadino, prima ancora che da consigliere comunale, pretendo che le regole della buona amministrazione vengano seguite, vengano messe in attuazione e vengano applicate cosa succede adesso? Succede quindi che ci sono delle indagini, avremo, come diceva Fabio, un danno economico rilevante, un danno di immagine e reputazionale del nostro comune che non si è mai visto abbiamo solo indagini, questo sindaco si è candidato, ha basato la sua campagna elettorale sul Pratone e sul Mattei, tutte e due alla procura della Repubblica nessuno dei due ha avuto il benché minimo inizio un sindaco che dimostra l'inadeguatezza che ha lui e che sta comportando con la sua inadeguatezza politica e conseguente inadeguatezza amministrativa un danno economico perché sta esponendo il nostro comune a un default finanziario in uno dei comuni più ricchi d'Italia, lo sta esponendo a un rischio di default finanziario e lo sta esponendo ad un fortissimo danno reputazionale e di immagine dovrebbe trarne le dovute conclusioni, deve dimettersi così non se ne venga fuori un scarico di responsabilità sulla parte amministrativa che è esecutrice che avrà le sue responsabilità e il giudice se le avrà gliele riconoscerà noi di questo non ci occupiamo, dei contenziosi se ne occupa il Tribunale però il sindaco Checchi e il presidente del Consiglio, allora assessore allo sport Matteo Sargenti che ne tragano le loro conclusioni il PD che è il loro partito di riferimento io so che nell'ambito del PD ci sono delle persone che hanno individuato delle criticità sul parco Matteo in particolare allora che mettono da parte queste persone che facciano assumere a queste persone le loro responsabilità altrimenti sarebbero complici, altrimenti saranno complici se non riescono a capire che il destino della città è in mano delle persone inadeguate e che i danni che questa inadeguatezza sta provocando saranno dei danni che difficilmente anche chi dovesse succedere sarà in grado di ottenverare, sarà in grado di rimediare in modo veloce e in modo completo allora vuol dire che sono complici quindi noi invitiamo quella parte del PD che si è resa conto pare, così pare ma io voglio vederlo nei fatti questo perché non si può fare soltanto parole adesso è il momento dei fatti noi da consigliere comunale credo di aver fatto il mio dovere ho vigilato, ho segnalato mi hanno chiesto di collaborare ho collaborato, ho detto che il dialogo competitivo non andava bene ho detto che quella gara non andava bene allora tu vuoi la collaborazione ma non vuoi che ti si venga detto quello che non ti piace in che cosa posso fare cosa posso fare più di questo per collaborare più di segnalarti queste cose più di mettere a disposizione quello che è la mia conoscenza che potrà essere poco tanta ma che lo è non accetto che mi si venga a dire che noi facevamo questo soltanto per interessi personali e perché non capivamo nulla sostanzialmente anzi mentivamo sapendo di mentire no, ci credevamo siamo convinti della correttezza del nostro operato oggi purtroppo aggiungo purtroppo l'ANAC ci dà ragione purtroppo perché non si può essere felici di questa cosa posso avere una soddisfazione personale per dire di aver avuto ragione ma credetemi sono la prima persona ad essere scontenta di questo giudizio inesorabile e pesantissimo dell'ANAC perché questo è un giudizio che condanna la nostra città che condanna il Parco Mattei chissà quando mai avremo questo bilancio chissà quando mai il nostro flore all'occhiello sarà abbandonato e sarà completamente in balia di niente e di nessuno io invito i cittadini a farsi sentire perché questa amministrazione è convinta che tutto finisca nel dimenticatore che tanto i cittadini sono persone rassegnate che tanto o non se ne curano della propria città o non viene in porta nulla o comunque non lo sentono come un problema allora invito i cittadini a esprimere nei modi più corretti possibili evidentemente più civili ed educati possibili il proprio dissenso perché sappiano che la città e i soldi pubblici sono dei cittadini non sono loro se vogliono dare le fiduzioni ai privati senza manco le coperture per il comune non lo facciano con i loro soldi non con i soldi dei contribuenti se vogliono fare i giochetti lo facciano a casa loro non nel comune che è la casa pubblica non solo la cosa pubblica è la casa pubblica allora invito i cittadini a far sentire il proprio dissenso in modo civile e chiedo che il sindaco abbia la dignità politica io non parlo della sua persona me ne guarderei bene lui lo ha fatto nei miei confronti lui lo ha fatto nei miei confronti lo ha fatto mettendo in dubbio la mia persona la mia capacità professionale colpendomi addirittura negli affetti familiari ma io non ho questi metodi non li farò mai e non farò mai quello che ha fatto lui a me però chiedo che abbia dignità politica e se ha dignità politica allora deve prendere atto di quello che è successo e trarne delle conseguenze perché la città non può più aspettare e la città non può arrivare all'indalia di persone così inadeguate grazie 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 grazie